Siamo qua nella palestra di rampicata della Saliva Bolzano. Quello che vediamo è una parete molto colorata. Una via è un colore, praticamente mani e piedi solo di un colore. Questa via verde qua è un 5A+. Allora se uso solo le prese verdi e i piedi sul verde ho scalato questa via. Questa qua è una via di 4B, la blu, mani e piedi sul blu. I piccoli sono gli appoggi e i grandi sono praticamente le mani o le prese. Il grado funziona così, c'è sempre un numero e una lettera. Inizia da tipo 4A, 4B, 4C, dopo il C salta il prossimo numero 5A, 5B, 5C e così via. Ogni tanto c'è un più per definire una cosa un po' intermedia, non esiste il meno. Chi inizia o chi ha le prime armi ovviamente può anche scalare una via usando tutti i colori per facilitare la salita. Le prese. Non tutte le prese sono prese molto semplici che si caricano dall'alto verso il basso, però ci sono pinzate, ci sono laterali o prese laterali che devono essere caricate nel verso giusto. Ci sono rovesci e ci sono bocchettini. In questo caso si carica con due dita. Tutte le prese devono essere caricate nel verso giusto per facilitare la salita. Oggi vorrei darvi un po' di informazioni base per quanto riguarda la tecnica ad arrampicata. Allora uno è far possibilmente passi piccoli e non stare troppo distesi con le braccia distese perché in questo caso voi non vedete più i piedi. Per cui le braccia un po' più basse, il sedere va in fuori e vedete i piedi e fate passi piccoli. Poi un altro principio è quello di essere un po' larghi con i piedi, le mani all'interno di un triangolo. In questo modo siete molto stabili. Questo funziona sulle vie molto facili tipo una scala che salite così. Al momento che trovate una presa sulle vie un po' più difficili, fuori dal vostro centro dovete spostarvi col vostro peso, col vostro centro sotto questa presa. Questo lo potete fare semplicemente usando un appoggio per tutti i due piedi, allora facendo il cambio piede e siete di nuovo stabili. Poi magari vi trovate una presa di qua e vi rispostate. Il cambiamento, lo spostamento lo potete anche fare incrociando i piedi e di nuovo spostandovi sotto la mano dove volete caricare. Se non c'è un appoggio che potete usare, potete semplicemente spostare il vostro bacino sotto questa presa, la rapicate e poi magari c'è un'altra presa di qua, spostate il bacino. La via del grado 5 a più, colore giallo. Theo si è già spostato un po' sul lato e ha preparato la corda, ha messo il dispositivo. Facciamo il partner check, lui controlla il mio 9-8, io controllo il dispositivo. Prima della partenza guardo un attimino il percorso della via per farmi un'idea. Vedo che nella parte superiore si sposta un po' a sinistra, altro di particolare non vedo. Ok, partiamo. Allora, mani su quelle grandi, piedi anche su quelle piccole, rinvio appena posso. Alzo possibilmente prima i piedi e solo dopo le mani. Qua distendo un piede in parete per avere un triangolo stabile, anche solo appoggiando il piede sulla parete perché mi serve solo per non girarmi. Riporto il piede all'interno e faccio stessa cosa a questo lato. Appoggio solo il piede per non girarmi. Quindi, se io avessi il piede qua, guardate, mi girerei, non riuscirei a stare stabile. Ok, abbiamo detto, andiamo avanti. Metto un piede alto, prendo queste due prese, faccio un cambio di piede, cioè sullo stesso appoggio, metto un piede e poi metto l'altro. Trovo una posizione stabile, sposto un po' il centro del corpo, con due mani sulla stessa presa. Vado avanti, faccio un nuovo cambio di piede, ho trovato una posizione stabile, un braccio esteso e rinvio. Avanti sempre prima con i piedi e solo dopo le mani. Come vedete, le scarpette tengono anche sugli appoggi molto piccoli. Ho trovato una posizione molto stabile, guardo un pochino dove va la via, va sulla sinistra e seguo il percorso del tracciatore. Chi ha tracciato questa via non ha messo le prese solo a caso, però c'è dietro un concetto e la sfida è un po' quella di riuscire a leggere la via. Cioè, riuscire a capire quello che il tracciatore ha pensato tracciando la via. Ciao! 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 Ciao!